Dal 1 gennaio del prossimo anno la riscossione dei tributi comunali a Modica sarà affidata ad una società privata. La gestione sarà per 5 anni e la società che si aggiudicherà la gara si occuperà della riscossione di tutte le tasse a vario titolo dovute al Comune per i servizi erogati. Lo stabilisce la delibera approvata dal Consiglio Comunale con i 13 voti della maggioranza dopo una seduta prima interrotta per l'uscita dei 5 consiglieri di minoranza verso i quali dai banchi della maggioranza sono volate parole dure. Sempre i consiglieri di minoranza sostengono che tale atto prevederebbe un agio a favore della società che gestirà il servizio anche a carico dei cittadini che sono in regola con i pagamenti dei tributi. Ma su questo aspetto delicato e controverso della delibera il sindaco Ignazio Abate ha chiarito che l'agio sarà applicato solo per i morosi e per gli evasori. Sulla scelta, strettamente politica e amministrativa, di tornare a un gestore privato per la riscossione dopo l'infelice stagione già sperimentata con una precedente società, il confronto in aula è stato molto acceso. Per l'opposizione si tratta del fallimento della gestione tributi da parte della giunta Abate che non è riuscita a organizzare al meglio l'ufficio. Il sindaco, giunta in maggioranza consigliare, ritengono invece che la scelta sia stata obbligatoria o quasi perché i dipendenti di Palazzo San Domenico sono ormai dimezzati essendo scesi nel giro di due anni da 600 a 290 e non ci sono dunque professionalità e numeri tali da poter strutturare al meglio un ufficio tributi degno di tal nome. Peraltro dal primo gennaio sempre del prossimo anno i dipendenti comunali scenderanno di altre 50 unità passando a 240 senza che vi sia la possibilità di bandire altri concorsi pubblici dal momento che manca il nulla osta dello Stato in tal senso per i comuni. L'ultimo rapporto della Corte dei Conti ha inchiodato l'amministrazione sul problema riscossioni perché a modica gli evasori dei tributi sfiori il 50% e negli anni si è troppo tergiversato su questo snodo fondamentale per la vita del comune. La mancanza di introidi certi fa crescere dunque il debito e quindi il disavanzo con tutte le conseguenze del caso. L'amministrazione Abbate ha cercato di tamponare con l'affidamento ai privati ma prima non aveva funzionato. Ci riprova ora e spera che andrà meglio.